Ciao zuccherine e zuccherine! Oggi video novità! L'amulino bianco ha deciso di deliziare i nostri palati con tante cose buonissime! Siete curiosi di scoprire queste nuove novità? Andiamo subito a vederle! Ecco qua tutte le novità dell'amulino bianco, dunque dietro troviamo la torta ricotta e cioccolato, poi abbiamo la crostata al cacao, abbiamo le tortine quelle al limone, gli abbracci, i pancake che non vedo ora di assaggiare insieme a tutto il resto ovviamente, poi abbiamo le crostatine integrali frutti rossi, abbiamo le mini fette con cioccolato al latte, poi abbiamo le fette biscottate rigate, poi abbiamo le nastrine al cioccolato, abbiamo le classiche nastrine che non è una delle ultime novità però a me le nastrine piacciono tanto che io le compro sempre, poi abbiamo i flauti stracciatella e poi abbiamo i cornetti integrali alla nocciola. I biscotti abbracci sono dei biscotti speciali, questi abbracci sono per loro, ovvero noi con gli infermieri. Poi non vedo l'ora di assaggiare i pancake o lo sciroppo d'acero anche, quindi ci sono già che saranno ultra buonissimi. Qui sotto nell'infobox vi lascio anche il link per seguirmi su Instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdermi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!